Buongiorno a tutti, oggi è il 2 maggio, oggi è il 2 giugno e noi ci stiamo preparando perché si va al fiume! Prendiamo il nostro primo sole, infatti siamo tutti pieni di creme, solari e tutto quanto, soprattutto anche per la faccia. Sono le 8 del mattino, proviamo per fare colazione. Prendiamo il nostro canale, il nostro canale e il nostro canale. Prendiamo il nostro canale. Prendiamo il nostro canale. Prendiamo il nostro canale. Prendiamo il nostro canale. Non sono tra i capelli a fare la bellezza di un uomo, lo sappiamo. Sono qua. Prendiamo il nostro canale. Prendiamo il nostro canale. Il nostro canale. Sono tornati dal fiume, abbiamo fatto delle foto stra belle e ve ne metto magari qualcuna qua, poi le pubblicherò anche su Instagram, se no mi seguite magari seguitemi. Abbiamo mangiato il nostro canale. Abbiamo mangiato il gelato, abbiamo comprato una gelateria stra buona vicino a casa dei nostri amici e poi rimaniamo qua a cena. Non so cosa mangeremo. Non so cosa mangeremo. Lo vedrete poi tra poco. Questa è questa. Questa non avete presentato a Giovanni e Giacomo quando fanno... ... 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